I due fratelli Qashifranco-Algerini, lo sapete, erano francesi di seconda generazione. Noi abbiamo cercato di capire cosa pensa un giovane immigrato di seconda generazione, musulmano, Zudi è appunto italo-siriano, ha 30 anni, fa il dentista e il rapper. Sentiamo. Zudi Fale è nato in Italia dai genitori siriani. È italiano da quando ha 18 anni, quando ha chiesto e ottenuto la cittadinanza. Oggi, a 30 anni, fa il dentista e il rapper, in arte è Zanco e l'arabe è Blanco. È musulmano, ma la sua fede è un fatto privato, che tiene per sé. Le marginazioni e l'esclusione producono violenza. Quando uno poi inizia a essere anche un po' disturbato, finisce che può commettere questi atti orribili, che mettono in cattiva luce, voglio ricordarlo, un miliardo e mezzo di persone. Un quarto della popolazione mondiale è musulmana. Quindi associare un quarto della popolazione mondiale a questi disturbati lo trovo veramente sconvolgente. Sono italo-siriano, sono bilingue, sono molto fiero dell'essere, dell'avere due identità. Ho scritto questa canzone qualche anno fa, che si chiama Stranieri non in azione, che parla proprio del fatto che le persone come me, che nascono e crescono in un paese, ma hanno origini di un altro posto, vivono questa condizione di essere stranieri perennemente. Parlo di come i miei paesani italiani si straniscono a volte del mio nome o del fatto che faccia Ramadan, mentre i miei paesani siriani si stupiscono del mio abbigliamento occidentale, del mio pantalone un po' largo alla rapper, diciamo così, e di varie sfumature che poi non sono altro che a me. No, non ci vado mai in mosca con gli abiti da rapper, dai! Purtroppo i siriani, lo devo dire, si sono veramente sentiti abbandonati dal mondo. I miei paesani vengono bombardati con gli aerei tutti i giorni, ci sono bombe che cadono dagli aerei così a caso, sulle case. Tu immaginati uno che fa un attentato, che ne so, a Bologna, alla stazione centrale, ebbene, allora arrivano i MIG e iniziano a bombardare Bologna a caso. Vanessa, l'ultima volta che l'ho vista, è stato il mio compleanno, ha organizzato un live per strada, in cui io ho suonato con il mitico DJ Dafti, aperitivo siriano, abbiamo raccolto fondi, Vanessa è partita con quei fondi per aiutare i siriani, una settimana dopo purtroppo è stata rapita. E' un problema di fanatismo, sono abituato a parlare con i miei interlocutori arabi che dicono, ah no, ma noi siamo una civiltà migliore perché non abbiamo la prostituzione ai livelli europei, non abbiamo la droga, il nostro clero non è pedofilo, non stupra i bambini e le mamme non uccidono i loro figli. Quindi anche qua si fa una generalizzazione che dal mio punto di vista equivale allo stesso fanatismo di Salvini. Ragazzi, tutto il mondo è paese, ognuno pensa di essere meglio degli altri, nel mio paese la Siria rischiavi di morire per una parola sbagliata nel posto sbagliato. Quindi io sono per la libertà d'espressione, ma voglio sottolineare che c'è stata una grossa ipocrisia su Charlie Hebdo perché ci sono state delle vignette veramente oscene, ho visto quella dello Spirito Santo che sodomizzava Gesù, mi sembrava veramente oscena. Dal mio punto di vista bisogna dare delle regole perché è una civiltà superiore è una civiltà che ha delle regole condivise. Detto questo, non ci sono assolutamente nessuna gestificazione per quei pazzi disturbati mentali che ieri sono entrati a fare quello che hanno fatto. Io non penso proprio che il rap abbia un ruolo nella diffusione dell'estremismo religioso. Il rap dipende da chi lo scrive. Ci sono persone che parlano di prostitute, gioielli, macchinone, ci sono persone che sono più impegnate, più militanti, ci sono persone che parlano di fanatismo religioso e ci sono persone che fanno canzonette d'estate. Non è il rap il problema, il problema sono le persone che si esprimono attraverso il rap.